Ciao ragazzi, siamo al Robin Crouse, c'è il caro Andrea da, come si chiama il tuo paese? Eh, per Sosa, come si chiama? Sosa, in provincia di? No, di Tarendra, salutando tutti gli amici. Invece c'è Luca, com'è che si chiama il tuo paese? Saliano, e salutiamo anche Saliano. Invece? La pulmone, la apica, il pulmone perizia dell'acqua. Adesso salda ciamo tutti i miei amici, il pulmone perizia dell'acqua, il pulmone perizia dell'acqua, il pulmone perizia dell'acqua.